Da tanti anni ormai miei cari amici alla Spezia esiste il palio e siamo felici ogni prima domenica ad agosto gareggiano tredici portali nel posto si svolge alla marina la grande sfida dei vari borghi marinari il fruco viene ad ogni costo ma più non posso per festeggiare non vi dico un record assoluto com'è accaduto io non lo so miei cari amici per un trofeo ambito hanno sofferto tanti rio ti darebbero per orgoglio l'ormoge e il portafoglio l'amico più caro e la sorella pur di vincere il gagliare detto e per questo se lo tengan stretto e a nessuno lo cederà ogni anno la sfida si rindova e riunì cercano la gloria dopo mesi e mesi di sacrifici i più forti saranno premiati ma ringraziamo questi gran campioni che hanno dei grandissimi coglioni infine c'è la sfilata del cuore che ricorda i vecchi personaggi con amore non vi dico un record assoluto com'è accaduto io non lo so miei cari amici per un trofeo ambito hanno sofferto tanti rio ti darebbero per orgoglio l'orologio e il portafoglio l'amico più caro e la sorella pur di vincere il gagliare detto e per questo se lo tengan stretto e a nessuno lo cederà non vi dico un record assoluto com'è accaduto io non lo so ti darebbero per orgoglio l'orologio e il portafoglio l'amico più caro e la sorella pur di vincere il gagliare detto e per questo se lo tengan stretto e a nessuno lo cederà viva il palio!